Sono giorni cruciali per la possibile riapertura della E45 ed in particolar modo del viadotto Puleto chiuso al traffico dallo scorso 16 gennaio per rischio crollo. Da metà febbraio è stato riaperto al traffico leggero ma appunto non è ancora stato riaperto invece per il traffico pesante. In queste due giornate di sopralluogo grazie all'utilizzo del bybridge saranno effettuati dei carotaggi sui baggioli 15 cuscinetti che separano la trave dai piloni del viadotto, troppo usurati secondo la procura per garantire la sicurezza. Il professor Claudio Modena ha intanto inviato un suo incaricato che sta effettuando i carotaggi che saranno terminati nella giornata di domani. I campioni saranno poi analizzati in laboratorio per accelerare e monitorare il deterioramento dei materiali. A quel punto il professor Modena dovrà dire alla procura se ha terminato i suoi accertamenti e a sua volta la procura potrà dare il via o meno ad ANAS di proseguire i lavori di rafforzamento dei baggioli. Questo potrebbe dunque permettere la riapertura dell'arteria al traffico pesante tra Pieve, Santo Stefano e Canili. La E45 potrebbe dunque riaprire entro il mese di luglio. Per la relazione finale invece del professor Modena c'è tempo fino alla fine di giugno ma potrebbe chiedere un'altra proroga. Quanto danno fa questa chiusura per questa vallata? Secondo me tanta. Ora poi che viene anche il periodo del turismo siamo isolati proprio totalmente. Senza contare le imprese e i danni che hanno perché sono gravissimi e tutta la nostra zona purtroppo. Grazie. Grazie.